la mortadella il caffè e la pietra la pietra se no poi mi dovrebbe anche le malvolo le came 7 e 10 questo è il pallone io pago il caffè che è il pallone che è il pallone quindi il caffè il caffè io ho un po' noi sono più forte Beh, dillo un po', dillo che è più forte un po', e chi è più forte? Io! Oh, che sta a riprendere? Ah si? Ho capito. Io sono la bestemmia, ho detto diversi cani e diversi maiali. Saluta al figa, saluta! Figa? Figarie!